www.redigio.it e la storia continua Quella che vende i lumini per i poveri morti Accendere i lumini ai morti è una tradizione tramandata nel tempo dalla religione. Nel nome della religione siamo tutti fratelli. Fortunati e sfortunati sono sempre quelli. Antichi mestieri Quella che vende i lumini per i poveri morti Pissare i lumini ai morti è una tradizione tramandata nel tempo della religione. Nel nome della religione siamo tutti fratelli. Fortunati e deslipati insieme a quei. Denanza ai cimiteri, presso i cancei, la donna che vende i lumini per i poveri morti Le viva, sicur, senza fare un torno. Pasca un paio, la vende i lumini per i morti. Quella che vende i lumini per i poveri morti Accendere i lumini ai morti è una tradizione tramandata nel tempo dalla religione. Nel nome della religione siamo tutti fratelli. Fortunati e sfortunati sono sempre quelli. Davanti al cimitero, presso i cancelli, la donna che vende i lumini per quattro soldi è viva, sicuro, senza fargliene un torto. Ma per campare vende i lumini per i poveri morti. Un commercio che non conosce arresti, senza pericoli di incendi. Naturalmente, come in tutti i settori, pur questo genere di lavoro ha subito radicali mutamenti. Se è bene organizzato, rende.